Di tutti i libri che ho scritto, Le piccole cose che cambiano la vita, è il libro a cui sono più legato. E, dopo averlo corretto, ricorretto, esci oggi in una nuova versione, che trovate in edicola. Si basa sul fatto che il segreto della felicità è nascosto nei semplici gesti quotidiani. È un tema antichissimo. E tutto nasce da Vermeer. Vermeer è il grande pittore che è diventato famoso per La donna dell'orecchino di perla, il film, il libro. Ma Vermeer aveva fatto qualcosa che, ai suoi tempi, nessuno aveva fatto. Non ha dipinto scene religiose, se non neanche paesaggi, sì, qualche spunto. Vermeer presentava delle donne che erano intente, soprattutto donne, che erano intente a compiere le cosiddette azioni minime. Una donna che ricama, una donna che suona il piano, una donna che pesa la bilancia. Azioni qualsiasi. E fino a qui non c'era bisogno di scrivere un libro sulle piccole cose che cambiano la vita. Ma Vermeer fa una cosa pazzesca perché queste donne che compiono azioni minime, azioni qualsiasi, intente a scrivere, a pesare, a ricamare, a suonare, queste donne lui le riempie di una luce immensa, intensa. Ci sta dicendo che nelle cosiddette azioni minime, se siamo totalmente presi da quello che facciamo, c'è una luce, una luce che non vediamo. Una luce intensa, immensa. Dottore, stavo seminando l'insalata. Ero talmente immersa in quello che facevo che non mi sembrava più di esistere. Ero così immersa che non mi sono accorto che avevo della gente intorno che mi guardava. Ero così immersa che, senza accorgermi, mi sono sentita per la prima volta, forse dopo anni o forse non l'avevo mai provato, così bene, così staccata. Io, che avevo paura di tutto, ho sentito svanire tutti i disagi. Questo libro è dedicato all'immergersi nelle azioni. I grandi saggi avevano insegnato che se siamo immersi nelle azioni qualcosa dentro di noi incomincia a seccerne una luce misteriosa. Noi passiamo il tempo a spiegare i nostri problemi, a cercare di capirli, andiamo anche in analisi a raccontare il nostro passato, ma la lezione di Vermeer è un'altra. guarda che se tu sei totalmente preso dalla cosa che stai facendo, un po' come i bambini quando gioca, ma che sono immersi, dai, vieni a tavola, no mamma, dai, vieni a tavola. Oppure sono talmente presi dal gioco che si trasfigurano, si trasmutano, una vera metamorfosi in tanti personaggi. Diventano l'eroe, diventano la principessa, diventano il drago, diventano la strega, diventano il mostro. Sono totalmente presi, beh, in quell'essere presi dalle cose, dalle azioni, noi secerniamo una luce che altrimenti non secerniamo. Insomma, un farmaco, un vero e proprio farmaco. E così questo libro è dedicato a questa luce interna, a questa capacità interiore che ci guida solo quando noi siamo immersi nelle azioni. E quindi in questo libro io parlo moltissimo dell'arte di non decidere. Uno dei miei maestri diceva sempre perché quando tu devi prendere una decisione non pensarci più e mettiti a fare qualcosa di pratico. Tipo? Mettiti a disegnare. La soluzione verrà da sola. Se penso quanta gente si tormenta per un rapporto che non funziona, quante ore, quanti giorni di discussioni vengono dentro una coppia e a quante persone chiediamo aiuto per decidere, no, distraiti. Mettiti a fare le cosiddette azioni minime. a perderti nel fare cose pratiche che ti distanziano dalla decisione da prendere. Ecco, io passo in rassegna nelle piccole cose che cambiano la vita, passo in rassegna quali sono le cose più importanti e semplici da fare e qual è l'atteggiamento mentale più corretto per affidarsi a questa luce interiore, a questa luce del sé, a questo sapere innato che ha soluzioni che vengono da sole. Perché nella vita se le soluzioni le hai pensate e le hai decise sono sempre scadenti. Se vengono spontaneamente e quindi non sono artificiali allora vanno direttamente al fine, alla meta. Uno dei pensieri più profondi del taoismo, del pensiero cinese, del pensiero di tutti i pensieri che ha ispirato la più grande psicologia che sia mai esistita è che il saggio va alla meta senza alcuna intenzione. Quindi non stare a pensare, non avere l'intenzione che accadano le cose che vuoi, immergiti in relazioni minime. Quando semini un seme nella terra, stai seminando te stesso in quel buio che ti rigenera e che poi ti porta all'azione nitida che si svolgerà da sola. Insomma c'è una luce nei nostri gesti che è una vera e propria terapia. Spero vi piaccia.